Oggi è una bella giornata per l'ospedale di Ortona ma per tutta la sanità abruzzese perché è presentata questo nuovo impianto per la mammografia che è stato donato all'ospedale di Ortona che è un centro di riferimento a livello regionale. Sì, Ortona, centro di senologia e riferimento regionale che si allarga anche per recuperare grazie a una partnership pubblico privato con la donazione di un terzo mammografo sulla prevenzione del tumore alla mamella. Noi abbiamo con il Covid perso tante donne che non sono state riscrinate per cui purtroppo troviamo tante donne già con un tumore avanzato anche metastatico per cui chiaramente dobbiamo recuperare tre anni in cui siamo scesi dai 15.000 donne che schriniamo ogni anno a 10.000 e anche quest'anno ancora la curva non sta crescendo perché è anche un appello grazie a questa inaugurazione di un terzo mammografo a Ortona complessivamente ne abbiamo nove in tutta la provincia alle donne di seguire l'invito allo screening e di farsi vedere perché purtroppo dobbiamo dire se non viene diagnosticato in un momento precoce il tumore chiaramente ha una prognosi molto peggiore che quando appunto lo screening viene seguito come previsto. Più che mai prevenzione? Assolutamente sì, noi da un lato stiamo recuperando le liste di attesa della chirurgia che hanno avuto tanti indaventi rimandati che non erano urgenti, stiamo operando tutti i casi oncologici in tutti i presidi di questa provincia compreso la senologia di Ortona ma chiaramente come abbiamo detto noi siamo pronti ad operare però va diagnosticato in modo precoce grazie anche allo screening mamario.